Ciao a tutti, sono Azzurra, sono una sessuologa e oggi in questo nuovo video parliamo di fantasie durante il sesso e cosa fare per migliorarle. Sigla! Ciao a tutti, sono Azzurra, sono una sessuologa e in questo nuovo video oggi parliamo di fantasie durante il sesso e cosa fare per migliorarle. Sigla! Con tutta l'enfasi che c'è! Guai a te se metti questa cosa. In molti mi avete chiesto delle informazioni in più sulle fantasie perché non è sempre semplice fantasticare e perché non capisco se la fantasia che faccio è giusta o sbagliata. Che non sia semplice fantasticare è molto vero, soprattutto se da piccoli non siamo stati abituati a farlo, da adulti diventa una cosa veramente marchi ingegnosa, che è un aggettivo che probabilmente non esiste ma ci siamo capiti. Ci siamo capiti? Avete in mente quando la maestra d'italiano vi chiedeva di scrivere un tema su quello che avete fatto la scorsa estate e voi scrivevate? Quest'estate sono stato a Ostia Lido con i miei zii, mi sono molto divertito, punto. Beh, lei non intendeva esattamente questo, intendeva dire prova ad arricchire ogni parola e ogni concetto con dei dettagli in più, per rendere il racconto più fantasioso e più elaborato. E quindi voi avete passato interi pomeriggi a piangere per questo motivo e non sapevate che la maestra d'italiano stava semplicemente lavorando per aiutarvi a tonificare il muscolo della fantasia che si trova all'interno di questa scatola. Poi comunque crescendo avete continuato a sognare le cose belle e durante l'adolescenza con l'aiuto degli ormoni androgeni ed estrogeni quel muscolo ha iniziato a tonificarsi un po' da solo e tutti a fantasticare sulle cose sessuali della pubertà. A un certo punto avete iniziato a pensare, ma queste fantasie che faccio sono normali? E lo pensate anche oggi da adulti quando notate che dopo aver fatto una fantasia di pancia quello che vi resta è una sottile sensazione di disagio. Per esempio, moltissimi uomini fantasticano sull'avere un rapporto sessuale con un altro uomo e questo può essere sicuramente molto eccitante, però va anche in contraddizione con quello che l'uomo sente che sia il suo orientamento sessuale. Beh, quello che posso dirvi è che alle fantasie non c'è il limite, che quando parte questa macchina noi possiamo spingerci veramente verso confini mai esplorati e che non ci aspettavamo e il bello è che non c'è bisogno di mettere in pratica quello che ci piace. Possiamo viverlo esclusivamente nella nostra testa, né la fantasia può diventare un'etichetta della nostra persona. Per esempio, nel caso di prima, l'uomo potrebbe pensare di essere etichettato come omosessuale o di essere addirittura omosessuale a sua insaputa. Quindi, un paio di consigli pratici. 1. Potenzia il tuo muscolo della fantasia impiegando tempo per fantasticare. Quindi, per esempio, riduci l'utilizzo di pornografia, mettiti steso o stesa in un luogo confortevole, in un ambiente che sia per te accogliente e inizia a muovere qualcosa nella mente, un po' come facevi con i temi d'italiano, ma meglio, e cercando di scrivere un copione che sia erotico. Può essere all'inizio noioso o frustrante, ma ti assicuro che dopo diventa divertente ed eccitante. 2. Accogli le tue fantasie, una volta che hai notato che sono per te piacevoli, e usale semplicemente come benzina all'interno della tua attività sessuale in masturbazione. Come ti senti nel farlo? Fammi avere un tuo punto di vista. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video!